Prendi il volo, sta atterrando da UC Cinemas. Sono meraviglioso! È stupendo! Ci siamo! Vogliamo! Avevo promesso avventura ed è esattamente quello che avevo promesso. Scopri il mondo dei Mallard e vinci una fantastica avventura per quattro persone a New York. Mamma, atterriamo! Sei abbastanza grande da farla in volo. Se là sotto qualcuno mi guarda! Non se ne parla di atterrare! Sicuri che nessuno guarda? Prendi il volo! Acquista il diglietto online da UC Cinemas per vincere!